Le armi italiane, milioni di milioni, datele agli ucraoni, che le sono giustate. Buonasera Lutvac, ma cos'è sta roba? Buon gelato, eh Rimini, buon gelato a tutti voi. Ma quale gelato? Ti raccomando, continuate a mangiare gelato. Ma nessuno mangia gelato. Ma dall'altra parte di Adriatico, pochi chilometri dell'Adriatico del gelato, dove voi mangiate, c'è una grande figata che si chiama guerra. Ma non è una figata. Ma voi pacifisti, col mento sporco di stracciatella, vivete come cosa brutta guerra. È brutta la guerra. Ma più che altro, voi per me avete FIFA. Ma no, ma ci fa schifo. Tanta FIFA. Ma no, è che la guerra... Paura, tremorella a gambe, di non mangiare più pistacchi e gianduia. Ma non è quello. Non arriva più gas per far funzionare manticatore carpigiani per gelato. Ma che deve ridicolizzare? Oddio, oddio. Invece nei depositi italiani di armi avete migliaia di M113. Eh, lo so, però... Io ti dico solo, guarda com'è bello... Cosa c'è il catalogo? ...che è l'M113. C'è anche il catalogo. Questo è il catalogo post all'armi. Ma che post all'armi? Tutti italiani, mi raccomando, dovrebbero tenerli in bagno quando mattina vanno a cagare e leggere a posto di catalogo di Leroy Merlin. Ma perché? Ci sono tante cose qui dentro, bellissimo. Ma non ci interessano le armi. C'è artiglieria leggera per tiri di condominio, litigi di condominio quando rompono i coglioni. Io voglio tegola, mi passa il gas sopra. Vabbè, no, no, le armi non servono mai. E i due condomini finiscono giù. Sì, ma non servono. Comunque, tornando, tornando alle M113. Sì, che è questo. Vedi che questa è una specie di panda. È una specie di... Ma blindata. Ah, non è panda. Questo è il modello base. Quello. Perché voi italiani siete pacifisti barboni. Ma no, vabbè, ma... Come optional, invece di mitragliattrici Browning. Che insomma, certo. Che potete vedere a pagina 16, naturalmente. Ah, perché ci sono anche le mitragliattrici Browning. Sì, eccolo qua, questo. Vedi, Browning, avete messo... Cosa avete messo voi? Avete messo copri, valante, palush, la radio, tutta in radica. Tutta in radica. Ma non è vero, non credo che ci sia la radio. Copri, sedile, da camionisti. Sai quello con le nocciole dietro per il sudore? Sì, ma non ci saranno. Molte gente del sud mettono le nocciole dietro. Ho capito, ma cosa c'è? Ma se tu dai ucraini, perché questi, anche se non funzionano bene, loro tolgono le nocciole e mettono granata. Eh, vabbè, ma quindi, vabbè... Voi dovete solo mettere su treno, se volete anche continuando a mangiare coppa di nonno. Ma basta con sto gelato. E mandare in Ucraina. Sì. Non sarebbe tanto sforza. Sarebbe meglio non dover usare... Ripeto, io di guerra, ne ho fatte tre. Bravo, bravo. Brevi. Sì, brevi. Corte, guerre piccole. Vabbè, meno male, no? Da giovedì a lunedì compreso. Ponte lungo. Guerre di Ponte lungo, va bene. Però sparavano davvero. E appunto. Arrivavano armi. E mentre voi mangiavate gelato. Ah, questo gelato. Quante bombe ho tirato. Ma non è bello. Quanti crateri ho formato col mio M16. Guarda qui. Ma l'abbia già visto. Perché non trovo M16? Ce l'ha già fatto vedere. Ce l'ha già fatto vedere. Guarda qua M16, che bello che è. No, non è bello. Lo trovate qui sul catalogo Postal Army. Sì. Con la bella stagione. C'è tanto voglia di armi da giardino. Non avere FIFA. No. Karin Dicola a comprare Postal Army. Ma che postal Army. Facifista dei miei cuccioloni.